Sono motivazioni destinate a far discutere quelle depositate questa mattina a seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Chieti lo scorso 19 dicembre nel processo di primo grado per la megadiscarica dei veleni di Bussi. I 19 imputati del processo, tutti ex vertici della Montedison, proprietaria dello stabilimento chimico di Bussi, accusati dalla Procura di Pescara di avvelenamento delle acque, sono stati assolti perché, secondo i giudici, non vi era alcuna ragione sotto il profilo dell'interesse personale dei singoli imputati che potesse in alcun modo giustificare la scelta, volontaria e consapevole, di avvelenare le acque di falda e munte dal campo Pozzi. A ben vedere, continuano i giudici d'Assise, nelle 188 pagine delle motivazioni della sentenza, una simile scelta sarebbe stata non solo del tutto incompatibile con l'ordinario agirumano, ma anche controproducente sotto il profilo strettamente imprenditoriale. Per i giudici della Corte d'Assise, preseduta da Camillo Romandini, non c'è stato pericolo per la salute pubblica, in quanto l'acqua emunta al campo Pozzi era sostanzialmente potabile e minimamente contaminata, mentre l'acqua di falda, nel punto di maggior contaminazione, non era neppure ipoteticamente destinabile per scopi alimentari, ragion per cui si è pervenuti all'assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. L'altro reato contestato agli imputati dai pubblici ministeri della Procura di Pescara, Mantini e Bellelli, quello di disastro ambientale doloso, invece, è stato derubricato dalla Corte d'Assise incolposo e quindi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Ovviamente immediata è stata la reazione delle associazioni ambientaliste, secondo il Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, la sentenza rischia di essere un macigno sull'applicabilità dei limiti di legge sulle acque potabili e sull'inquinamento e apre al caos normativo e giurisprudenziale.